Cattivissima sta modalità Aspetta Guardalo, guardalo No Eh, porta Quanti ne ho? Vabbè Cosa non sta succedendo? Cosa non sta succedendo? Ragazzi, è fantastico A porta Non fare il vigliaco? Beviti sto chag-chag, Steph Che ci sei venti minuti Mi stanno continuando a sniperare? Sì, ho visto, ho visto Mamma mia Che fastidio poi Sì, sì È una zona strana, molto strana Sto cercando di capire Sono scesi? Sì, è uno che ti corre vicino Molto vicino L'astronauta è impavido E smetti di riscattarmi Ok Visto Steph, ma se l'ultimo ti sei fatto anche le 10 kill, eh Lo so Oh mio Dio Ok Dove si va? Taglio così Andiamo a boschetto Ok È dentro zona, mi immagino Why not? 3-4 team Quindi comunque ce n'è abbastanza Non voglio partire subito da Pinnacoli Ci andiamo dopo a Pinnacoli Io cercherò di usare i cecchini In faccia In faccia? Addosso proprio Ok Grazie mille le donazioni di Luca Schiatarella Che ce l'ha appena mandata Grazie E adesso iniziamo a pensare A che cosa? A cecchinare A cecchinare A cecchinare A cecchinare ovviamente Ovviamente Quindi vi ricordiamo Soltanto fucili da caccia Balestre, cecchini E tutte quelle robe lì E siamo in team Contro 4 E siamo in 2 Quindi un po' di difficoltà Perché fanno sempre modalità singole team Perché snobbano le coppie, Steph? Perché? Eh, perché non piacciono le coppie Comunque Marimondi per me ha mandato Altra donazione a 2 euro Ha scritto Sì, sono io Quindi ok Ci siamo ricordati Ok, meno male che ci siamo ricordati Grazie mille comunque per la donazione Grazie, grazie per la terza volta Quindi Benissimo così Ok, mi prendo le trappole Ho visto player Uno al burger di sicuro Ok, trappola Fucile da caccia Altro fucile da caccia Non è che possiamo trovare Chissà quali grandi cose Come varietà Non è che ne abbiamo tantissime Una bellissima palestra, Steph Una cosa interessante è che loro hanno tolto il revolver questa volta da questa modalità Perché la scorsa volta tutti usavano troppi revolver Tipo ne avevano due o tre a testa Allora, ok, balestre qua ce ne sono due Ma dico che una mi va bene Ok No, però vabbè Secondo me era giusto una pistoletta Magari meno forte del revolver Sai com'è? Perché se sei vicino vicino Secondo me invece è giusto così Ok Io sono sulla filosofia che hanno fatto oggi Ok, dai Proviamo e vediamo se ci piace di più in questo modo Trappola Io sono fucile a caccia Niente un cechino Io ho il cecchino quello da un hit È una balestra Ok, perfetto Altro cecchino da un hit Te lo prendo? Allora Vediamo un pochettino Io le voglio fare le kill con Solini Mamma mia se voglio fare kill non vedo l'ora Sarà difficile due contro quattro ma Sono gasato Sì, furia Ok, comunque Facciamo un setup del genere In modo tale che praticamente sparo Tre colpi di fucile da caccia E poi li ricarico Che è interessante Non so se sono in grado ma ci voglio provare E player C'è player Mi sono piazzata una trappola nei piedi Ok Allora, ti stanno arrivando a casa Dentro Colpito Capo Ok Dove sono? Dentro Sono dentro casa Dentro casa Ok Ma quella trappola la vede chiunque Fere Eh, ho sbagliato Stavamo mettermi in un muro E l'ho buttata lì Allora Ok Comunque scatta di più quando sono in live Cioè io ho fatto un test prima E non scattava così Vabbè Non posso evitarvi? Occhio Uno giù No, ma l'ho buttato Aia, che male E non si tratta così vicino col cecchino Ma che stiamo passi È fastidioso infatti È fastidioso Non so come è possibile che sia instant morto quello che ho sparato Ah, che ne so Sta scendendo? Credo di sì, Steph Mi sto tirando delle bende al volo, eh Perché qua a me è andata male Ok Ah, è qui vicino Ma dov'è? Lo sento, sento il suo spirito, Steph Ma senti che corre? Sì Sta bilando Senti passi Ha messo una trappola Dai, amico Peggio della mia, la vuoi mettere? Ti ho ammazzato l'amico Che poi non ho capito Sto cercando di colpirlo con la balestra È qui E anche lui mi vuole colpire con la balestra Arriva da te Pensavo di aver ricaricato Dove cavolo è finito? Dai, che brutto sto combat Vieni a darmi una mano? Sì Con la balestra Perché è l'unica cosa con cui posso sparare Dai Voglio farlo Il no scope, porca miseria No, mi sta venendo l'imbarazzo A giocare così, Steph Oddio, sfiorazzo stavolta Piedi Ovviamente potrei mirare e prenderlo Ok È difficilissimo Comunque non ci avevo mai provato Vai sulla trappola Ah, pensavo Dobbiamo inseguirci per tutta la casa Ma mi vuole fregare con la sua trappola? Dov'è la sua trappola, Fer? Ah, non lo so Probabilmente in quella stanza Ok No Dove è finito? Aspetta Dai, vuoi scappare ancora? Sì Già è stato un combat brutto In più se scappiamo così La trappola Ok Ah, è qui È qui davanti È qui davanti ancora Ha costruito Ed è qui sotto Lo vedi? Ti ho preso Ti ho preso Oh, l'ho colpito con la balestra Una volta Ferri è andato a piccone È impazzito Aspetta, eh Io mi metto lontano E lo miro Cioè Ci dobbiamo allontanare Per uscire a colpillo Dov'hai? È bruttissimo Criminale Rega Mi sta facendo arrabbiare È comica sta roba Amico Cioè, sembra Ci vorrebbe la musichetta Stile Stanley Oli In questo momento Perché è davvero imbarazzante Affacciati un attimo Affacciati Dov'è Steph? Boom Dov'è Steph adesso? Che imbecille che sei comunque Prima o poi E siamo a due Ho detto dieci Andiamo Io ho fatto un hit con la balestra Steph Sì, fiero di me Sono fiero di te No, no, allora Combattere da vicino Mi è venuto davvero L'imbarazzo Proprio Steph Ma è normale È normale che sia No, lo so che è normale Ma sai com'è Ti ci devi abituare Non l'avevo ancora provata Sto modalità L'ho sto provando Per la prima volta Quindi Ok, comunque c'era una cesta In quella casa Ma pazienza Cioè, tanto Che possiamo trovare Colpi del cechino Altri cechini Gli ho visto uno lì Ma stanno fightando Tra di loro Tipo un fight imbarazzante Come lo sai prima Sì, sì, sì Guardate Un altro fight imbarazzante E io me la tento Ma guarda che è fattibile Vado anch'io Mi metto in mezzo Non vorrei farmi notare troppo Così mi metto in mezzo Uh, me l'ho sfiorato Questo hit Porca miseria Ma sono tutti lo stesso team Ma stanno fightando Secondo voi Cioè, scrivetene i commenti Perché sono curioso Io non capisco Stanno saltando E correndo Ma non capisco Se stanno anche a sparare Sì, sì, stanno sparando Stanno sparando Troppo di fretta questo È imbarazzante Comunque vederli da lontano Io ho provato a colpirne uno Sì, 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 sì Vai Ho provato Però pensavo di non averlo preso Dai, pensavo andasse ancora Leggermente più dietro L'ha preso quello Che cavolo Ok Sta arrivando altra gente da lì Guardate che casino Ok Dove siete? Dove siete? Oddio sta modalità, Steph Lo so Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so Quanto curva Faitando, faitando Da così lontano Molto poco Ce l'hanno fatta ad ammazzarlo Uh, aia Chi mi ha preso? Balestra E io la balestra Non l'ho trovata Mi sa Io ce l'ho Però ce l'ho per me Ah, visto Alla mia destra Tipo da pinnacolo Aspetta Pinnacoli Aspetta No Ti avevo finalmente visto Rimetti fuori la faccia Rimetti la fuori Mi prenderei con la balestra Te lo giuro E siamo a tre Imbecille Steph Ah no Boom E siamo a quattro Io lo odio Ma muoiono tutti subito Cioè, che succede? Non so bene perché Non c'è il rest Credo sia una particolarità della monetà Che stanno a fare quelli? Quindi se muori, muori totalmente Credo di sì Sono un po' spaventato di sta roba Sono tutti instant morti, raga Non so che dirvi Comunque è troppo fan Non posso dire lo stesso, Steph Non posso dire lo stesso Ma secondo voi In quel cespuglio C'è qualcuno? No, era soltanto items C'è un sacco di roba leggendaria L'avevo killato i due tipi Che un po' mi intriga Aspetta un player Io ci sto provando Perché ce ne sono anche due Nella struttura lì in alto Sotto di noi, Ferre Ce ne sono due Quanto sotto? Abbastanza Una nord-est Uno più Ok Quanta gente ovunque Ah, eccoli Uh, che hit questo Questo era forte Ferri dietro di te Al culo Aiuto, Steph Ma che vigliacco Come faccio? Sono muoio Sono morto Aiuto Hittato Sta scappando Salto, salto Via, via, via Ok Aiuto Che vigliacco è Comunque questo Giocando Ho paurissimo E adesso che fa? Non so Eh, no, 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 no Non ti, ti rilisci l'amico No, è difficilissimo, Steph La zona Corri e salta Corri e salta Corri e salta No, sono morta, Steph Sono morta Ho 20 di vita Dai Dai, lasciatemi in pace Ce l'avevano con me adesso Sono girati Che erano fuori la zona Quindi un po' li ho rallentati Avevo 20 di vita Mi ha preso Dai, che vigliacco Dai, che vigliacco Che vigliacco Come lo giocate vigliacchi Sta modalità, comunque Amici miei Come ve la giocate vigliacchi Si gioca a sniperare, no? Comunque sì Si muore subito Non hai più altre chance È cattivissima sta modalità Aspetta Guardalo, guardalo No Eh, porta Quanti ne ho? Vabbè Cosa non sta succedendo? Cosa non sta succedendo? Ragazzi Fantastico A porta Non fare vigliacco? Bevi Mi stanno continuando a sniperare Sì, ho visto Vi prego Non mi rompete il muro Vi scongiuro Vi scongiuro Cioè Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Consolini è fantastico Ok Che scatti Ok, 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 ok Allora, adesso mi ho deciso Calmi Ok Dicevo, sono deciso se prendere il cecchino viola, quello che spara tanti colpi Ok Sinceramente mi sa che lo lascio lì Qua ci sono Mazz Dai, veloce Ok Non voglio altri di quel cecchino da un hit Ok Devo andare velocissimo Io non lascio fare sta cosa ma ci provo Ok È saltato un pochino Ok Sì, sì, per andare più veloce Sì Non le voglio sprecate tutte Ok, lei dovrebbe bastare così Corro e salto, corro e salto per non essere sniperato 11 vivi, 6 kill Me ne mancano 4 Vai, Steph Ok Ma è vergognosa sta maledità Io non ci so giocare È troppo Corro e salto Corro e salto Perché come fai da vicino? Alla mia sinistra Non so colpire da vicino C'è un conto da lontano Comunque ti arrangi Ma Ma quello lì È stato vigliacchissimo A fare tutto il giro Tu è venuto dietro Appena lo ritato Ha fatto i muri Perché era disperato È stato proprio un terribile Uh Vicino Uh No Non è divertente Eh vabbè Ora però ti sniper Non è giusto Oh Smettete Da dove? Non lo so C'è gente che snipera Visto uno lì in alto Ascolta Dai facciamo Un po' di muro in più Ok Ok Voglio tutti i lati coperti Tranne Lei Proprio lei signorina Proprio lei E siamo a 7 kill Ok Allora 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 Non ne mancano molti Eh No Non ne mancano molti Sei vivi E voglio altre 3 kill Per fare le 10 Ok Ovviamente non mi posso affacciare Più di un tot Lì abbiamo capito Che c'è gente Ma Non sembra gente Che rimane ferma È tranquilla Ah io volevo lutarlo Quello Acciderbolina Vabbè Ok Ricaricato 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 Credo che i consolini Si stiano divertendo parecchio A vedere sta roba Ok Allora Sono io Out of zone Non ho Trampolini Ma ho un camphire E ho un medikit Che sono utili Non ho shield E Adesso Dobbiamo iniziare a pensare Ci sono quelli sulla montagna Che è leggermente un vantaggio Stare in alto Ovviamente Ma proprio leggermente Leggermente Ok Non so se ho gente anche lì alla destra Mi hai sentito? Sì sento una cesta Infatti anche la sentiva Salto Avrò paura di essere snafrato O di materiali Che fanno sempre comodo Quanto vorrei un trampolino Per recuperare La differenza di altezza Corro e salto Corro e salto Corro e salto Corro e salto Sono quasi dentro la zona Ma non lo sono Non so come compensare La differenza di altezza Non lo so Steph Senza il trampolino È davvero tosta Lo so Però lì stanno billando Quindi ancora non mi vedono Per ora vado dentro Sai cosa faccio? Vado sotto qua In modo tale Ad essere coperto Poi entro nelle casette E mi faccio una base Nelle casette Siamo cinque vivi Nel mentre Mi faccio una base Nelle casette E provo a vincerla così Perché secondo me Chiuderà fuori dalla montagna Non dentro Sì 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 Aiuto C'ho una paura Che vengo Vittato Ok Occhio occhio Che attiri l'attenzione Ovviamente Neanche alle spalle Ok Seriously E vi inizia il ballo imbarazzante Questi sono i fight imbarazzanti Itato Quanto poco di vita Vai Oh 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 What a hit What a hit Otto kill Quattro vivi Ok Ne mancano due Ne mancano due Mamma mia Oggi è la giornata dei primi game Fai il primo game Trovi l'arma E vinci il game Fai il primo game 8 kill E ci sono 4 vivi Non parlare per me però Stef Già No no è terribile Di più peperonis Ti giuro È la cosa più brutta Per me Che io vi ho mai giocato È terribile Eh ma perché tu non le usi mai Queste armi È normale Eh no certo Cerco di usarle Ma preferisco altre armi Ovviamente No ma poi è tosta Spara così da vicino È tosta È quello il problema maggiore Cavolo Che paura Eh cavolo sì Iniziamo la fortezza Iniziamo la fortezza di Stef Comunque è una cosa buona Dai Modalità da 4 Che comunque si muore subito Bella cattiva Quindi Sì 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 Ce la possiamo giocare meglio anche noi Quella è una cosa ottima Ok 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 Perfetto Mi ho visto uno lì Vero Eh probabilmente sì No È un pezzo di legno Sembrava una testa Ok Eh vediamo se li chiude fuori Comunque è sempre 4 vivi Quindi non stanno riuscendo Ad ammazzarsi tra di loro Ovviamente Sto pensando di alzare No Alla fine ha chiuso su di loro Eh Aspettate che ne vedo uno Mi ha fatto anche uno scatto Mi ha fatto anche uno scatto Che fastidio Eh vabbè tanto va Ha fatto il muro sopra Sì 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 Però aspetta Quel muro crolla Eh ma c'è una base Che è una cosa allucinante Ha messo anche una trappola Ha capito che se fortifica lì Tendenzialmente ha vinto Che sfiga per la zona Che noia Speravo totalmente che non chiudesse lì E invece lì l'ha proprio chiuso perfetto Tutto il range che poteva Peccato Allora facciamo qua va Ok Allora Dove stanno gli altri 3 Cioè gli altri 2 Ma che ne so E soprattutto Chi è in team con chi Ah boh è incomprensibile ormai Steph Ma lì è solo Cioè a me sembra che sono morti No sparano però No sparano Sento una cesta Lo so ma No lascia perdere Non trovi niente Tanto troverai Hanno provato a snapperarmi Ok Cioè hai capito che riesco a coprirmi la testa È tosta È tosta Con l'oro così in alto Ovviamente in questo In questa modalità È solo un vantaggio Stare così Mamma mia che colpo Che hai parato Stai proprio al limite Frega Se ne chiedi Sono ancora out Ok Mamma mia La forte zona Ok Questa non la volevo Ovviamente c'è anche quest'airdrop Che potrei prendere Per avere qualcosa di leggendario Ma sapete alla fine Non è quello che conta A questo punto No ormai in queste modalità No Steph Ma dai Ma figurati se è conto Ancora quattro vivi Ok Cioè ma ha chiuso su di lui? No Secondo me no Perché ero già che urlavo Perché non è possibile Sta roba Secondo me è fuori anche lui adesso Ok E poi lui non è lui Perché si sparano Quindi sono due team minimo Non ho neanche abbastanza mazzo Per fare questa roba Copriti bene da quelli Sì 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 Maledetti Continua a costruire Continua ad espandersi Casca Sì È morto È morto Ok Uno di loro perlomeno Perché non è quello che Che vedevamo Però continuano a sparare Quindi vuol dire che sono Sono più di uno Che cattiveria Raga ne uscite da lì Che così fai to anche io Per la fine del game Por favore Poi siete sempre lì in alto Non sono abituato a stare in basso Io nella vita Sono sempre alto alto Sì Uno è lì L'altro è lì E l'altro è lì L'ancora è l'astronauta Che si vede Sì Uuuuh Hai visto l'astronauta? L'astronauta sta puntando a me Vedi Sì Lascialo perdere Lascia perdere Riparati il muro Ok Eh ti mira Occhio eh Mamma quanto è in alto Ho visto da qui Ancora più in alto Guarda Già Mamma mia Che fastidio poi Sì È una zona strana Molto strana Sto cercando di capire Sono scesi? Sì È uno che ti corre vicino Molto vicino L'astronauta è impavido E smetti di scattarmi Ok Uuuuh Visto? Sì Occhio eh Secondo che passa in mezzo? No in mezzo alle foglie no E ti arriva addosso Sì invece passava Ok L'ho fatto cadere Sì Non so perché Non so perché non mi faceva billare Roba terribile Non lo so Ogni tanto le fasti Bag Sono curioso di una cosa C'è la nuova zona Ok è ancora lì Vision su di lui Tu l'hai visto? Eh Qui davanti Ok Qui sopra L'ho visto costruire là Poi non so se si è spostato eh Quindi occhio Non lo vedo È sopra secondo me No? No L'avevo visto costruire Sotto di me Ok Credo Non lo suoni Non lo suoni Perché io non sento Fa troppo rumore il ferro? Fa troppo rumore anche la zona Che è appiccicata Penso sotto di te totalmente comunque Sì 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 Lì sotto Non lo suoni Yes 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 10 kill fatte Vittoria Oh mio dio Oh mio dio Che bello È stata bella questa con la trappola È tanto bella quanto cattiva Steph È stata cattivissima Era lì chiuso Cosa dovevo fare? Io volevo usare Da tutto il tempo Le cavolo di granate ad impulso E non lo vedevo mai per farle Era sempre chiuso in queste casette Io volevo usare le granate ad impulso Per vincere Fantastico ragazzi Bravo Steph Cavolo Bravo Io volevo puntare alle 10 kill Ma first try First game Prima modalità Due contro quattro No Prima di iniziare la live Ci siamo detti Dai proviamo a vincere Gli ho fatto Ma figurati Se riusciamo a vincere La modalità in live Gli ho fatto È impossibile E invece Prima tentativo Prima vittoria Che